Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi proseguiamo con le pillole di storia della matematica e sarò veramente molto sintetico perché oggi andremo a vedere un punto davvero importante nel corso della storia della matematica, forse un po' romanzata come storia, però è quel momento in cui hanno avuto luce insomma i quaternioni, che sono una generalizzazione in dimensione più alta, in quelli che sono i numeri complessi e probabilmente hai sentito parlare di numeri complessi, ma se sei alle superiori o ai primi anni di università, ma in realtà anche più avanti, è probabile insomma che il concetto di quaternione non ti sia mai stato spiegato, neanche a me in realtà infatti non ho grandi conoscenze a riguardo, se non qualcosa che ho studiato e letto per conto mio insomma. Comunque parliamo in particolare di una lapide che si può trovare ancora adesso sul Broom Bridge, uno dei ponti di Dublino e questa lapide è stata posta in quel ponte nel 1958 e è in quel luogo insomma per onorare quello che è successo appunto in maniera forse un po' teatrale, romanzata, un lunedì del 1843 e questo giorno in particolare Hamilton, che probabilmente avrai già sentito nominare magari non per i quaternioni, ma per altri suoi grandi risultati nella matematica o quantomeno avrai sentito parlare di qualcosa emiltoniano, quindi graffi, sistemi dinamici e altro insomma e Hamilton è proprio lui insomma. Quindi quel giorno lì lui con sua moglie Helen stavano andando a un congresso della Irish Royal Academy e lui era un po' assorto nei suoi pensieri perché erano ormai mesi che stava cercando di estendere in qualche modo il concetto di numero complesso su spazi di dimensione più alta. Per esempio lui chiaramente voleva passare da dimensione 2 a dimensione 3, non puntava a fare salti enormi insomma, però non riusciva e appunto la storia narra che in questa camminata sua moglie continuava a parlare, lui però non l'ascoltava eccessivamente perché continuava a rimuginare su quest'idea di estendere i numeri complessi e su questo punto gli venne il lampo di genio e disse, beh, invece di estenderlo insomma in dimensione 3 perché non lo estendiamo in dimensione 4 e per farlo ci appoggiamo a altre due unità particolari oltre alla I che è la classica unità immaginaria che chiamiamo J e K e in particolare gli vennero anche in mente i legami fra queste unità immaginarie tra virgolette e in particolare scrisse per ricordarsi queste relazioni su questo ponte incise con quello che aveva a disposizione la relazione che adesso ti comparirà qui a video che è proprio quella scritta sulla lapide ovvero che I alla seconda uguale a J alla seconda uguale a K alla seconda uguale a I per J per K uguale a meno 1. Questi sono sostanzialmente i fondamenti della teoria dei quaternioni e permettono di strutturare un po' un algebra, un calcolo sopra questo spazio molto simile a quello dei numeri complessi quindi anche a quello dei numeri reali sostanzialmente in cui qualcosa va a perdersi per esempio la commutatività però ci sono molte proprietà e sono utilizzati attualmente davvero in moltissimi campi. Niente questa è un po' la storiella che avrà sicuro qualcosa di vero ma molto altro è maturato nel corso degli anni facendolo diventare un po' una leggenda probabilmente. Comunque sta di fatto che è proprio lui che introdusse questo nuovo oggetto il quaternione nel mondo della matematica quindi un nuovo numero sostanzialmente e pensavo di parlare di questi numeri magari in un paio di video molto introduttivi molto di base tipo quelli sui numeri complessi che ho fatto magari nelle prossime settimane e se può farti piacere magari lascia un commento qui sotto così da farmelo sapere. Bene con ciò ti saluto e ti ricordo che nella playlist storia della matematica in pillole troverai raccolti tutti quei video riguardo appunto questi temi e sono tutti presi sostanzialmente da pezzi da capitoli del libro storia della matematica di Boyer che come al solito trovi linkato in descrizione se può interessarti. Non ce l'ho qui sotto mano perché l'ho lasciato a Verona e adesso sono a Trondheim quindi non ci stava nel peso della valigia in aereo quindi l'ho lasciato a casa. Bene con ciò ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!